Viaggiando e mangiando noi siamo a Porto Seguro al ristorante del Hotel Solar do Imperador che rimane vicino all'aeroporto e che domina tutta la vallata di Porto Seguro e siamo al ristorante Adega do Salar, se non sbaglio perché è un nome un po' complicato. Adega dell'Ordes. Adega dell'Ordes, ecco lì, Adega dell'Ordes. E abbiamo preso un antipasto con una tartare di carne molto molto buona e adesso invece degustiamo un filet mignon, come vedete, con arroz e cera piemontese e con le patate, insomma, patate al forno e invece qua abbiamo una bellissima mocca di langosta che è un piatto tipico brasiliano con una situazione un po' rivista perché come vedete è molto molto elegante e così come la ricergo. Per vedere un giretto. Grazie. Grazie.